I carabinieri hanno arrestato tre persone ritenute responsabili del tentato incendio negli uffici del comune di Pomezia ad aprile 2017 per aver dato fuoco ai locali del negozio di bricolage pratico verificatosi nel febbraio 2016. Si tratta di due uomini e una donna di età compresa tra i 36 e i 24 anni, residenti tra Torvaianica e Ardea. Le forze dell'ordine sono arrivate a loro dopo l'arresto di un 43enne avvenuto lo scorso anno grazie alle immagini di videosorveglianza che ripresero il tentativo fallito di incendio. Le indagini hanno fatto emergere anche la chiara responsabilità della banda sul fuoco appiccato al magazzino pratico che, dopo un tentativo andato a vuoto, aveva colpito l'esposizione esterna per propagarsi poi all'interno dell'esercizio commerciale distruggendolo totalmente. Durante la cattura uno degli arrestati è stato inoltre denunciato per il possesso di tre bombe artigianali. Gli uomini sono stati associati presso la casa circondariale di Velletri, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari nella propria abitazione.